A che pensi? Vorrei toglierla da qui dentro. Non sarebbe una sconosciuta, ma sarebbe solo un altro corpo. Avrebbe i pensieri di Zoe, i suoi ricordi. Lasciatela rivivere. Com'è andata? Molto bene. Per un momento ci ho creduto. Mi serve più tempo. Sento che devo rivederla. Non funziona così. Il numero degli incontri è stabilito in anticipo. Come ti senti esattamente? Non dormo bene, faccio sogni stranissimi. Strani come? Approfitta di questi momenti per stare bene con lei. Hai presente il nostro primo incontro? La coscienza purità non ce l'ha nessuno qui. Perché sei qui? Hey. Grazie a tutti